6 persone sono state arrestate dai carabinieri di Matera coadiuvati dai colleghi di Massafra e Castellaneta tra le province di Taranto e Matera nell'ambito dell'operazione alta tensione contro i furti di rame. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazione di rame. I provvedimenti sono stati eseguiti a Castellaneta, Palagiano e Massafra. L'attività investigativa ha preso il via dopo diversi furti di rame che hanno colpito a partire dal novembre del 2017 la ita al cementi di Matera e la tratta ferroviaria gestite delle ferrovie del sud-est. Le fasi successive delle indagini hanno consentito di cristallizzare le responsabilità penali dei singoli appartenenti all'organizzazione criminale dedita al furto di cavi di rame e alla loro successiva ricettazione ed individuare il loro modus operanti distinto in base all'obiettivo da colpire. Le indagini hanno permesso di ricostruire le modalità ed individuare i presunti autori di 16 furti commessi nell'arco temporale che va dal novembre 2017 al dicembre 2018 in cui sono stati trafugati circa 12.000 metri di cavi in rame dal peso equivalente a circa 18.000 kg e dal valore di mercato di circa 100.000 euro con danni per oltre il milione di euro. Le indagini sono state coordinate dal procuratore della Repubblica di Matera Pietro Argentino e dal PM Maria Cristina De Tommasi. L'importante operazione contro il fenomeno dei furti di cave di rame è il frutto dello sforzo sinergico dei carabinieri del territorio lucano con il fondamentale apporto delle stazioni carabinieri imprescindibili presidi di sicurezza e legalità per i cittadini.